Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video dove voglio parlarvi ancora una volta di NAS ma questa volta come suggerito da alcuni di voi, come richiesto da alcuni di voi voglio darvi qualche piccolo consiglio sugli acquisti ora i consigli che voglio darvi sono riferiti a dei prodotti che non sono di fascia altissima e non devono servire per grandi aziende quindi non hanno lo scopo di servire situazioni più complesse ma sono adattissimi per tutti gli utilizzi gli utilizzi di home, quindi per fare il backup dei propri materiali per anche chi gestisce e crea contenuti per il web, quindi per dei creator e per i freelance, quindi qualcuno che non ha enormi necessità di potenza nella gestione dei file, degli archivi ho fatto questa premessa perché? perché è semplice ed è normale spendere tanti soldi quando si ha bisogno di più funzioni e di più potenza come nella scelta di un computer portatile o di una macchina fotografica si tende a valutare oltre alle caratteristiche anche il budget anche in questo caso, quindi nella gestione dell'archiviazione dei file abbiamo le stesse identiche caratteristiche abbiamo dalle caratteristiche tecniche fino alla gestione del budget e quindi dobbiamo andare a creare o a compensare la nostra scelta in merito a questi due parametri momento pubblicità questo video è sponsorizzato da me stesso in realtà voglio ricordarvi che io da qualche periodo ho aperto la mia pagina Patreon dove potete venire a sostenermi e a chiedermi cose perché lì vi rispondo quotidianamente siamo ancora molto pochi ma creo dei contenuti solo per la pagina Patreon e se siete curiosi di venire a vedere e se volete sostenermi trovate il link qui sotto in descrizione ora affrontiamo la prima domanda esistono diversi produttori di NAS quindi di Network Attacked Storage i più conosciuti sul mercato sono Synology e QNAP ora, probabilmente la domanda di base è a quale produttore mi affido? ad uno o all'altro? quali sono le caratteristiche per cui scegliere uno? e quali sono le caratteristiche per cui scegliere l'altro? in realtà ci sono tantissimi altri produttori di NAS di Network Attacked Storage che sostanzialmente sono dei mini computer sono dei piccoli server ma io mi soffermo su questi due brand perché sono quelli che portano la maggior tranquillità di utilizzo al momento per un utente medio perché in realtà c'è ancora un'altra possibilità che vorrei affrontare nel futuro è quella della creazione in casa di un server quindi costruendolo proprio da voi creando un NAS da soli con dei sistemi operativi che si trovano in licenza open source online ma è argomento di altro video ora, veniamo a quelli che sono i modelli che per me sono valutabili per Synology e per QNAP ora, tra i due brand sia esiste differenza perché uno ha un sistema operativo l'altro invece ha un altro sistema operativo entrambi sono proprietari entrambi hanno super giù tutti quanti le stesse caratteristiche che supportano le stesse tipologie di funzionalità io nel mio percorso lavorativo ho utilizzato sia Synology che QNAP e al momento mi trovo meglio con QNAP forse però perché sono molto più abituato al software di QNAP perché lo utilizziamo in ufficio con il server più grande quindi sono stato costretto ad utilizzarlo molto di più e quindi mi si sono abituato molto di più dall'altro lato con Synology io ho creato grazie a un altro piccolo NAS un server FTP perché ho trovato la gestione delle impostazioni molto più semplice con Synology rispetto che con QNAP ma in realtà è probabile anche che sia stata una mia mancanza non riuscire a trovare una soluzione veloce per arrivare al risultato che volevo ottenere quindi ho trovato più velocemente delle impostazioni su Synology piuttosto che con QNAP e viceversa in altre circostanze al contrario sono stato più veloce su QNAP rispetto con Synology quindi voglio elencarvi quattro modelli di quattro NAS differenti in realtà sono due categorie un modello per brand e voglio parlarvene molto velocemente semplicemente perché e voglio illustrarvi tutti e due perché li ritengo entrambi validi ho utilizzato 3 su 4 di questi e utilizzo 3 su 4 di questi NAS allora partiamo dal presupposto che i NAS possono avere sono come detto dei piccoli server e portano all'interno delle memorie e abbiamo la possibilità di trovare dei NAS sul mercato che abbiano uno slot per un solo hard disk due slot, quattro slot, sei, otto, dieci e così via la realtà dei fatti è che quando si parla di utilizzare un NAS abbiamo due necessità grandi per cui lo utilizziamo uno è per l'archiviazione e il backup di sicurezza e l'altro invece per la condivisione ora in termine stesso il prodotto proprio inteso come NAS ci permette di attaccare una memoria ad una rete questa rete può essere sia interna alla nostra casa, allo nostro ufficio oppure poter condividere esternamente nella nostra rete questi determinati file determinati link determinate cartelle o accedere a tutto il NAS quindi sono queste le due caratteristiche principali per cui si sceglie un NAS ora a meno che non ci siano necessità specifiche si tende sempre a tenere in considerazione entrambi i valori quindi la questione di scambio dei file tramite rete d'accordo funziona all'interno di tutti i NAS mentre la questione del salvataggio e backup dei file beh qui andiamo un attimo a dobbiamo andare un attimo a ragionarci perché se prendiamo un NAS con un B quindi con uno slot per un solo hard disk non potremo fare nessuna copia di sicurezza o non possiamo affidarci a nessun tipo di RAID i RAID lo ricordo sono un sistema di gestione dei file che ci permette di avere delle catere di sicurezza abbiamo il RAID 0 abbiamo prima di tutto il JDOB dove un hard disk viene letto dal computer come hard disk basta poi abbiamo la funzionalità RAID 0 dove se abbiamo più hard disk possiamo sommare la capienza degli hard disk così da avere un unico hard disk grande il problema è che quando andiamo a sommare uno, due, tre, quattro, cinque hard disk avremo una capienza molto più grande e una velocità di banda di trasferimento file molto più grande ma essendo che il sistema il NAS in questo caso cosa fa? prende un file e lo mette da una parte un altro file e lo mette da un'altra parte un altro di qua e un altro di là quindi smista in un modo, con un algoritmo i file in tutti gli hard disk il problema è che non smista il file in sé ma smista delle porzioni di file per essere molto più veloce nella gestione quindi cosa succede? che noi nel momento in cui per un motivo X perdiamo uno di questi hard disk perché si rompe abbiamo perso tutti gli altri file mentre abbiamo delle situazioni dei RAID di sicurezza ed emergenza che possono venirci incontro come? abbiamo il RAID di tipo 1 dove a parità di memoria quindi abbiamo due hard disk 4TB e 4TB disponibili da utilizzare ne avremo soltanto uno perché l'altro sarà la copia dell'altro abbiamo il RAID 5 dove su una catena minima di 4 hard disk ne potremo utilizzare soltanto 3 mentre uno sarà utilizzato come backup ora la sto facendo in modo molto semplice in realtà vengono utilizzati tutti e 4 dischi per il loro 75% e l'altro 25% sarà una porzione di altri dischi così facendo che nel caso in cui uno di questi dischi venga a mancare con la funzione di RAID 5 possiamo togliere il disco rimetterlo dentro e gli altri 3 dischi saranno in grado di ricostruire il disco mancante sembra magia per me lo è ma questo è il RAID 5 quindi ci dà una catena di sicurezza in realtà poi esiste anche il RAID 6 che si fa con catene superiori ai 4 dischi dove abbiamo la possibilità di perdere fino a 2 dischi perché fa lo stesso concetto del RAID 5 soltanto che va a perdere si utilizza meno porzione di ogni disco così da avere più capienza per la parte di backup e abbiamo la possibilità di poter perdere fino a 2 dischi in contemporanea e di poter recuperare comunque tutto il materiale esistono anche altri tipi di RAID ma diventano sempre più complicati e necessitano di molto più spazio e strutture quindi fatto questo enorme premessone io vi porto due modelli nello specifico un NAS da 2 ebay e un NAS da 4 ebay perché qui da 2 e da 4 perché se installiamo oltre i 4 costano tanto e danno necessità differenti rispetto all'utilizzo home e di un freelance mentre un NAS da un disco beh semplicemente viene a mancare la questione sicurezza per la quale vi porto il contenuto ora abbiamo i dischi sia di Synology che di QNAP partiamo da quelli Synology allora io ho selezionato il modello da 2 ebay che è il DS220 Plus ora questo modello che utilizzo io in questo momento ha una CPU base Intel abbastanza potente ha delle buone prestazioni ha due porte LAN fondamentale se abbiamo uno switch di rete quindi vogliamo collegare il NAS con lo switch di rete con due porte abbiamo una possibilità di poter gestire diversamente i file e abbiamo la possibilità di poter fare il RAID 1 oltre che il RAID 0 quindi unire due dischi RAID 1 proprio il concetto di avere uno la copia dell'altro dei dischi ed è quello che utilizzo come NAS per fare il mio server FTP quindi l'ho impostato in modo che sia aperto all'esterno con il protocollo FTP quindi chi ha le password di accesso può accedere e caricare o scaricare i contenuti che vi sono al suo interno questo modello che io ho utilizzato anche come media server interno in casa per un bel po' di tempo poi l'ho spostato come server FTP proprio perché sono riuscito ad utilizzarlo come server FTP ho cambiato il NAS che ho in casa come media server ha la possibilità questo DS220 Plus come tutti gli altri che vi citerò di poter installare ad esempio Plex Plex è un'applicazione di terze parti che ci permette di creare il nostro media server un po' come fosse un nostro home Netflix quindi carichiamo noi i nostri contenuti e possiamo rivederli anche tramite web quindi anche per esempio c'è l'app di Plex noi possiamo collegarci al nostro server e guardare i film, i video che ci sono sopra oltre a questo naturalmente con il sistema operativo di Synology abbiamo tutta la possibilità di creare cartelle condivise creare i sottocartelle, mettere i file creare dei link condivisibili con cui le persone possono scaricare direttamente dal nostro server e quant'altro quindi tutte queste funzioni non le vado ad elencare semplicemente perché le do per scontate che questo prodotto le faccia questo tipo di NAS ha tutte queste funzionalità quindi gestione del backup almeno al RAID 1 abbiamo la gestione dei link esterni abbiamo tutta una gestione interna per quanto riguarda la parte di organizzazione dei file abbiamo degli antivirus che possiamo installare alcuni a pagamento ed altre funzioni invece sono gratuite questo perché è importante? perché ci sono stati e ci sono sempre dei momenti in cui vengono attaccati tutta una serie di NAS di grandi brand dove provano a fare degli accessi forzati e grazie a questi antivirus e anti-malware riusciamo a bloccarli per tempo perché altrimenti rischiamo che possiamo essere vittime di attacchi di phishing dove ci vengono bloccati tutti di ransomware scusatevi dove vengono bloccati tutti i dati ci viene chiesta la cauzione per poter pagare per avere la password insomma è un problema che è stato può succedere può nascere nel 2021 ci sono stati dei momenti di attacchi su QNAP forzati davvero tantissimi altri su Synology altri su anche altri brand come per esempio WD ha i suoi NAS e anche loro hanno avuto lo stesso identico problema quindi c'è tutto questo mondo e quindi avere un sistema di sicurezza è piuttosto importante questo era il modello da due bei che vorrei subito recuperare quello che è il costo vi lascio il link qui sotto in descrizione di Amazon quindi leggo quello che al momento trovo come prezzo che è 3,99 su Amazon ed ha installato quello che vi elenco naturalmente è il NAS senza dischi all'interno quindi i dischi vanno comprati separatamente viene letto qui sotto qualcuno in descrizione da 1TB a 2TB a 4TB naturalmente anche quando si va a scegliere un disco bisogna scegliere un disco dedicato ai NAS anche qui per gli hard disk meccanici esistono i dischi creati appositamente per NAS perché sono dischi creati per rimanere accesi sempre quindi il NAS non va mai spento e proprio per questo motivo perché i dischi hanno tutta una tecnologia di assorbimento delle vibrazioni che serve a farli rimanere sempre accesi quindi sono prodotti nati per questo vi leggo qualcosa a questo sotto in descrizione quindi questo modello da due bei lo troviamo a 3,99 su Amazon e vi lascio il link qui sotto in descrizione passiamo adesso al modello da quattro bei sempre di Synology questo non l'ho mai provato in realtà cambia poco rispetto al modello precedente si alzano un pochino le prestazioni perché c'è la possibilità di installare ci sono degli slot per SSD per installare un SSD come cache adesso vi spiego il concetto e il modello si chiama il DS420 Plus dove abbiamo ben quattro bei per quattro dischi differenti ora con quattro bei abbiamo più di una possibilità possiamo fare il RAID 0 come detto dove sommiamo tutti i dischi possiamo fare un doppio RAID 0 e RAID 1 che si chiama 0 più 1 quindi possiamo prendere due dischi due dischi e unirli al RAID 0 entrambi e poi fare RAID 1 e RAID 1 di questi due dischi RAID 0 un po' contorto come concetto ma c'è questa possibilità e quindi sempre lo stesso concetto avremo una copia di un'altra copia ma se mettiamo quattro dischi da 4TB noi in teoria dovremmo avere 16TB di disponibilità considerate sempre la metà di due dischi si fa 4 più 4 diventano 8 in RAID 0 gli altri allo stesso modo e poi 8TB di RAID 0 e 8TB di RAID 0 si fondano in RAID 1 e avremo 8TB disponibili un unico grande hard disk comunque backupati sono la loro copia ora perché dico che c'è la possibilità su questo modello di avere la cache in SSD allora quando noi copiamo dei file su NAS noi siamo limitati dalla banda portante quindi dal nostro cavo della rete casalinga che normalmente possiamo tranquillamente viaggiare con il CAT 5 e CAT 6 sui 1000 megabits sul gigabit tranquillamente ma siamo poi frenati dall'imbuto che è la velocità del disco meccanico i dischi meccanici hanno una velocità di lettura e scrittura che è intorno ai 130 megabits per secondo che si traducono sui 70-80 megabit per secondo questo è il loro limite ora se uniamo i dischi in RAID 0 dico che abbiamo più velocità perché dovendo scrivere un pezzo da una parte e un pezzo dall'altra abbiamo il doppio della lettura e scrittura quindi abbiamo il doppio della velocità ma se andiamo a lavorare in RAID 1 lavoreremo con la velocità dei dischi meccanici ma anche in RAID 5 e RAID 6 stesso concetto si velocizza di un po' ma non è come in RAID 0 che è molto più veloce allora questi sistemi cosa hanno fatto? è possibile installare delle SSD M.2 di M.M.I. in pratica anche piccolini da 128GB ad esempio e utilizzeranno questo SSD come copia come cache di copia dove se noi dobbiamo copiare sul nostro NAS 50GB in realtà quando noi li copiamo li copieremo sull'SSD che è molto più veloce e poi dopo sarà cura del NAS andare a prendere quel materiale su quegli SSD e copiarlo sugli hard disk di memoria e quindi utilizzeremo come tampone questo SSD e in questo modello è possibile installarli inoltre aggiungo anche per il modello precedente e per gli altri due che verranno tutti quanti hanno porte USB di tipo 3 e queste porte servono a far leggere al NAS un hard disk esterno o una pennetta esterna se per caso dobbiamo copiare i nostri file che abbiamo su un hard disk non dobbiamo necessariamente passare per il computer ci basterà collegare questo hard disk o la pennetta al nostro server e tramite l'interfaccia web si aprirà una cartella e noi possiamo tranquillamente fare un drag and drop e copiare i nostri file sul nostro server e poi se la piangerà lui da solo senza dover stare vicino al computer quindi questa è la versione da 4 bay che io consiglio ai professionisti almeno al freelance che ha bisogno di un po' più di spazio un po' più di sicurezza con un RAID 5 si ha più spazio è comunque una discreta sicurezza che ci permette di poter lavorare ma anche come i bambini da server questo è fantastico ora passiamo invece alle soluzioni di QNAP ora per QNAP mentre se per Synology ho scelto due modelli della stessa classe per QNAP ne ho scelti due di due classi di due categorie differenti parliamo sempre di un dual bay di un 4 bay ma parliamo del QNAP TS250 ah non vi ho detto il prezzo di quello precedente perdonatemi recuperiamo subito perché attenti perdo i pezzi poi me ne dimentico il DS420 Plus della Synology costa su Amazon 515€ però lascio linkato qui sotto in descrizione sempre senza dischi quindi è in close euro così viene nominato torniamo a QNAP allora TS251D questa è la fascia non è la fascia più economica di QNAP perché ce ne sono altri che sono un po' più economici perché hanno meno prestazioni meno performance vi ricordo che sono sempre dei piccoli computer quindi abbiamo il processore abbiamo la RAM quindi se il processore è più veloce abbiamo una decodifica più veloce per i contenuti video da guardare in streaming se abbiamo poca RAM quando dobbiamo fare uno spostamento di file potrebbe il computer il NAS andare in PAP e dover attendere un pochino in più quindi ci sono queste cose da valutare quando si sceglie uno di questi prodotti uno di questi NAS TS251D così che in questo momento è dietro di me dietro la televisione e io utilizzo come server home come media server home e come server home dove ci copio tutti i dati e documenti che voglio tenere al sicuro in casa come possono essere le mie fotografie i miei documenti personali e poi con questo media server ci gestisco il media server in casa dove ci carico sopra ho comprato un film mi sono scaricato il file l'ho messo lì mi sono scaricato qualche video da YouTube che voglio conservare me lo sono messo lì quindi ho creato la mia piccola libreria di cose che posso vedere in casa questo modello nello specifico porta anche un'uscita HDMI perché è possibile collegarlo direttamente al televisore senza passare per la LAN per i televisori che non hanno la lettura della rete ci sono televisori con l'ultima generazione un po' tutti quanti possono essere connesi in rete e quindi possono leggere il media server tramite la rete interna invece questo ha la possibilità di essere attaccato tramite HDMI si collega un mouse e una tastiera alle porte USB che sono presenti qui ce ne sono in verità più di due porte USB abbiamo quella per la connessione dati e due per una per mouse e una per tastiera e in realtà si può proprio controllare come un'interfaccia dal televisore nel caso in cui avessimo un televisore un pochino più vecchiotto avessimo la necessità di doverlo controllare in questo modo anche questo versione 2 bay e nulla di magico in sostanza io l'ho comprato ho scelto questo modello perché aveva un processore un po' più veloce per poter gestire i file video in 4K per potermeli riprodurre mentre per il 4 bay ho scelto il TS401 Plus quello di prima è il 251D in realtà io volevo parlarvi del 251 Plus ma rispetto al D il Plus è un po' più lento è un processore più lento per la decodifica hardware quindi la decodifica dei file in 4K se vogliamo vederli per questo ho scelto il 251D perché come media server è molto ma molto più interessante e parliamo del costo paradossalmente questo costava anche meno 251D che vado subito a dirvi il prezzo l'ho comprato da poco in realtà ne ho parlato in qualche video probabilmente un mesetto e mezzo fa costa 288€ su Amazon e adesso andiamo a parlare del TS451 che invece ha 4 bay 4 bay, 4 spazi stesso discorso non vado a ripetermi che per il Synology questo per esempio lo utilizzo come come NAS server per una parte dell'ufficio quindi nella parte dedicata al lavoro che facciamo noi c'è questo media server qua che è un pochino più piccolo rispetto a noi abbiamo un altro molto più grosso questo è un pochino più piccolo ma per la mole di lavoro che noi facciamo su questo media server questo è più che adatto in realtà questo lo utilizziamo esclusivamente per il Red 5 per tenere backup del materiale ma non ci lavoriamo più sopra una volta lavoravamo direttamente questi server oggi invece lavorando molto in remoto lavoriamo molto di più con soluzioni cloud piuttosto che con il server in ufficio perché non abbiamo le persone attorno quindi non possono tutti quanti accedere allo stesso server e quindi lo utilizziamo letteralmente soltanto per il Red 5 per tenere in archivo il materiale fino a che non dobbiamo archiviarlo definitivamente questa è una soluzione davvero ottima io questo qua il primo che ho comprato lo avevo come media server tutti quanti sono passati come media server in casa ed era una bomba perché questo è bellissimo e potentissimo mi ci sono trovato da dio mi dispiace tenerlo in ufficio a lavorare e non utilizzarlo tanto ma per le sue caratteristiche e per la sua completezza preferisco tenerlo lì mi dà più sicurezza e questo modello da 4 Bay costa vediamo su Amazon questo quasi quasi me ne compro un altro di questi perché interessante avrei dovuto tenere tutte le pagine aperte ma non l'ho fatto sono stato come un cattivo bambino non costa neanche tanto costa 421 euro ma attenzione come detto tutti questi server hanno la RAM di base viene installata normalmente 2 GB di RAM io sul mio modello ho comprato 8 GB di RAM separatamente sempre della QNAP io l'ho installata vi consiglio di comprare il modello da 8 GB di RAM perché necessita di 8 GB di RAM ha bisogno proprio di aria perché altrimenti nelle operazioni di copia in RAID 5 tra i vari dischi e una volta ne facciamo tante operazioni contemporaneamente la macchina all'inizio mi andava molto lentamente invece adesso avendo messo 8 GB di RAM funziona addio c'è il modello da 8 GB di RAM con la 8 GB di RAM già preinstallata e costa 650 euro su Amazon io probabilmente vi consiglio di prendere il modello da 2 GB e comprare la RAM compatibile basta fare qualche ricerca si trova da 8 GB da poter installare in questo modello è facilissimo l'installazione della RAM c'è anche la guida intanto alla fine si smonta la vitina si svita si mette la RAM e si riabita è semplice non è molto complicato ma io vi consiglio di farlo perché è importante ora perché nel mercato molti scelgono Synology piuttosto che QNAP o QNAP piuttosto che Synology in realtà nel mercato QNAP è sempre stato un pochino più economica a parità di prestazioni con QNAP perdonatemi QNAP è sempre stata un po' più economica rispetto a prestazioni con Synology ed è sempre stata quella che QNAP ha aggiunto sempre qualche funzione in più ad esempio di QNAP troviamo anche i NAS con Thunderbolt 3 Thunderbolt 2 usciti molto prima rispetto a quella di Synology per questo QNAP è sempre stata un po' più all'avanguardia su cui i prodotti si fa pagare ma a parità poi di componenti e di prestazioni con Synology è sempre stata un tantino più economica mentre Synology ha sempre dato un'enorme sicurezza sia del brand che dei prodotti e dell'affidabilità cosa che da anche QNAP assolutamente non ho mai avuto problemi in realtà non ho mai avuto necessità di assistenza con entrambi i brand quindi non conosco l'assistenza come si comporti con entrambi sicuramente se prendete tramite Amazon tramite Amazon siete sicuri che avete un canale di assistenza privilegiato tramite loro perché sicuramente possono aiutarvi nella gestione di un qualsiasi problema quindi io sono arrivato alla fine di questo video che è venuto piuttosto lungo speravo fosse più breve ma volevo comunque darvi tutti i concetti e per me era fondamentale spiegarvi tutti i concetti per la scelta di un vostro primo NAS insomma io vi ringrazio per aver visto questo video se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un mi piace sono disponibile qui sotto nei commenti se volete parlarne vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto di seguirmi su Instagram e di venire a sostenere anche su Patreon io vi ringrazio per la visione cos'altro dirvi noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video con un nuovo video